Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Notizia orrenda quella che arriva riguardo a Un Posto al Sole Nessuno immaginava una cosa del genere, soprattutto i fan. Uno dei protagonisti indiscussi della serie Un Posto al Sole ha detto per sempre addio ai suoi fan L'attore ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti coloro che lo hanno sempre seguito Delle parole struggenti, un saluto molto commovente che ha fatto rabbrividere davvero tutti quelli che hanno letto la notizia La spiegazione della fine di un ciclo di vita e l'inizio di un nuovo percorso La chiusura del capitolo più importante della vita dell'attore, è proprio quello di cui parliamo oggi Una fine che però indica un nuovo inizio, tutto diverso. L'attore in questione ha pubblicato una lettera corredata di foto in cui ripercorre tutto il suo percorso, soprattutto quello che ha avuto sul set di Un Posto al Sole Non era nemmeno maggiorenno quando la produzione ha accolto l'attore e lo ha reso parte di questa fiction di successo Il volto ad oggi lascia il suo ruolo con una consapevolezza molto importante, ovvero di essere sia un attore che una persona migliore rispetto a quando è iniziato Avete capito di chi stiamo parlando? L'addio inaspettato è quello di Lorenzo Sarcinelli il quale, come riportato da Today, dice per sempre addio al personaggio di Patrizia Al suo posto tornerà Alberto Rossi.Evento traumatico colpisce un posto al sole Lorenzo ha deciso di fare questa scelta per potersi recare a Barcellona, dove finalmente inseguirà il suo sogno di diventare uno chef rinomato L'attore ha salutato tutta la produzione e lo staff, ringraziando ogni persona per il ruolo fondamentale che ha avuto ognuno per la sua crescita Chi mi conosce sa quanta passione, ambizione e determinazione io abbia Sa quanto forte e profondo sia il mio sogno. Forse per questo la consapevolezza di un futuro fatto sicuramente di situazioni e momenti molto complicati, non mi spaventa Anzi, so che ce ne saranno di meravigliosi. Poi rivela che non teme di dirigersi verso una nuova vita Affermando che tutto ciò è merito anche dei colleghi, registi, operatori, macchinisti, produttori, donne e uomini della produzione che gli ha permesso di migliorarsi sempre di più Ovviamente parliamo di un posto al sole, che dall'aprile del 2015, mi hanno dato la mano e accompagnato con amore fino ad oggi E questo amore non sarà mai dimenticato. Lorenzo Sarcinelli, proprio in questo modo, ha voluto ringraziare tutti per la bellissima opportunità vissuta sul set Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video